La terra di Calabria e dei suoi eccellenti prodotti agroalimentari. E' stato questo il tema della seconda edizione del premio itinerante Artisti Eccellenze Calabresi, organizzato dall'omonima associazione che ha portato sul palco del Teatro Comunale di Cassano i protagonisti calabresi dei marchi DOP e DOC. Una serata all'insegna dell'imprenditorialità e del fare rete arricchita da grandi ospiti e momenti in musica, ma con un occhio alla solidarietà. C'è il marchio, il marchio importante della Calabria come l'amaro del capo, il vino cirò, il peperoncino, il simbolo della Calabria, le mandorle di Amendolara, insomma abbiamo le aziende più grosse oltre a cinque aziende che ho voluto premiare con una medaglia che sono cinque aziende importanti che diciamo che partono dalla punta della Calabria ad arrivare dall'Alto Ionio. Ogni volta che ho fatto un evento oppure una serata di gala come questa sera ho sempre devoluto il raccolto per un'associazione quindi questa volta è stata decisa proprio insieme alla mia commissione per Io Noi di Cosenza. Un'associazione che si occupa dei ragazzi speciali, io li chiamo speciali, sono ormai i miei ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie.